Si è svolta a Catanzaro una riunione convocata dall'assessorato regionale all'istruzione in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, utile a raccogliere da parte di tutti gli attori del settore segnalazioni di problematiche e criticità da sottoporre all'attenzione del Ministero dell'Istruzione. All'incontro hanno partecipato alcuni rappresentanti sindacali del comparto scuola, referenti del terzo settore e per l'ufficio scolastico regionale Vito Primerano e Antonella Iunti. La riunione è stata utile per confrontarsi e stabilire quali siano le emergenze che la scuola calabrese deve risolvere prima del 20 settembre. Abbiamo l'opportunità di riferire direttamente al Ministero dell'Istruzione di cosa abbiamo ancora bisogno, ha affermato l'assessore Savaglio, riconoscendo le tante risorse che sono già state destinate alla scuola. Nei mesi scorsi era stata avviata una ricognizione relativa a spazi e trasporti in collaborazione con l'Unione delle province e l'Associazione Nazionale dei Comuni. Ancora oggi i problemi sono soprattutto legati ai trasporti perché il ritorno alla scuola in presenza e la necessità di mantenere una capienza fino a un massimo dell'80% dei mezzi pubblici rende necessario un rinforzo della rete. La Regione Calabria ha già raddoppiato le macchine ed è disponibile anche a nuovi interventi ma serve che le scuole comunichino i fabbisogni ai comuni. Intanto il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e i Sindacati dei Trasporti si sono aggiornati al 20 settembre per confrontarsi sull'efficacia dei sistemi di organizzazione e controllo che le Regioni avranno introdotto e che saranno contenute nei piani da presentare al Ministero entro giovedì.